Precipitazioni dimezzate rispetto allo scorso anno, cambiamenti climatici ormai sotto gli occhi di tutti. Il fiume Po è sceso a meno 7 metri e 40 sotto lo zero idrometrico. Che la siccità sia sempre più un problema è chiaro, per questo un tavolo in regione si propone di affrontare e risolvere le criticità mettendo in atto misure che possano rispondere alle esigenze idriche anche con progetti infrastrutturali. Il tavolo che diventerà permanente è un'iniziativa a cui ha partecipato anche il consorzio Dunas. La preoccupazione del consorzio al di là di azioni sul lungo periodo è concentrata in particolare sulla stagione attuale che ha portato gli agricoltori alla semina e che ora rischia di lasciarli senza acqua. Due le azioni su cui Dunas chiede all'autorità di intervenire sulle deroghe al deflusso minimo e sulla ridefinizione delle disponibilità di acqua dagli invasi alpini a favore dell'agricoltura. Ieri il tavolo è stato molto partecipato, devo far notare la grande sensibilità di regione Lombardia per la presenza di quattro assessori. Il tavolo è stato fatto sia perché in particolare periodo di siccità rende molto problematica la stagione in rigua che è alle porte e per Cremona che è una parte della zona di Cremona, Cremasca e Cremonese dove l'irrigazione dipende principalmente dal lago di Como e dal fiume dalle situazioni particolarmente problematiche. Sul fiume Po abbiamo ancora, pur essendo i minimi, noi abbiamo un impianto che preleva dal fiume Po e fa tutta la zona a Casalasca e lì abbiamo ancora qualche margine di sicurezza però insomma il livello di attenzione è molto alto. Sostanzialmente l'andamento climatico è variato e quindi bisogna effettivamente pensare a nuove norme e adeguarle a quella che è la situazione climatica. Noi abbiamo chiesto alcuni strumenti per affrontare il breve periodo cioè la stagione in rigua che è alle porte che sono principalmente una maggiore flessibilità da parte dell'istituzione a rilasciare le deroghe per quanto riguarda il deflusso minimo vitale soprattutto nei due mesi critici che sono luglio, giugno e luglio. E l'altro grosso obiettivo che noi abbiamo è ridefinire un po' i rapporti che ci sono con le aziende idroelettriche che gestiscono gli invasi alpini perché questa grande capacità di invaso che loro hanno dovrebbe essere messa a disposizione con più facilità e soprattutto con più flessibilità a favore delle utenze irrigue cioè le nostre che sono utenze che esistono ormai da centinaia di anni e che sono in difficoltà bisogna rilasciare loro l'acqua e consentire che avvenga l'irrigazione.